Alla fine l'atteso confronto tra i candidati sindaco al San Biagio Resort organizzato dalla Fidapa di Acireale è stato interrotto per il malore occorso a Rosario Leonardi, ex sindaco e papà dell'aspirante primo cittadino Sebi. Provvidenziale è stato l'intervento di Giovanni Licciardello, volontario della Croce Rossa, che si è subito precipitato dopo che Leonardi aveva dato i primi segni del malessere. Dunque ha avuto questo preoccupante epilogo, l'ultimo appuntamento con i candidati sindaci a confronto prima della consegna delle liste fissata per oggi alle 12.